Dove finirà questa fase di ribasso per i mercati e le criptovalute? Alla fine la chiusura ciclica mensile è arrivata e i mercati sono in panico, in questo momento stanno andando giù. Ieri profondo rosso per tutti i mercati delle altcoin, perché bitcoin ovviamente regge sempre di più il mercato, i ribassi, perché è una valuta più stabile rispetto agli altri, ma anche bitcoin chiaramente sta cedendo terreno. Anche nella giornata di oggi registriamo un buon meno 4%, altcoin ancora profondo rosso, è iniziata una fase di ribasso, ne avevamo parlato la scorsa settimana e andiamo oggi a fare una cosa, vediamo quali sono i livelli di supporto che il mercato potrà utilizzare questa settimana per andare a rimbalzare, a respirare, a cercare di riposarsi e mettere un freno a questo tipo di momento, a questo ribasso. Bene, ciao a tutti, bentornati, buon inizio settimana, anche se è una settimana in rosso. Ma ragazzi lo sapevamo che c'era questa chiusura ciclica mensile che doveva avvenire sui mercati, lo dico già da qualche settimana, moltissimi hanno dubitato di questa fase ciclica, anche nella mia academy alcuni utenti, mi siete da dire, probabilmente chiude facile, ce ne andiamo a casa con tranquillità. Ah, il mercato non è mai tranquillo ragazzi, è quando sembra che tutto sia rose e fiori, sbam da queste legnate, è sempre così ragazzi, e lo fa anche il mercato hold. Attenzione, non è una cosa che fa solo ed unicamente il mercato e le criptovalute, capita sempre. Quindi, massima attenzione, anche oggi è uscita fuori la frase, forse per gli holder è finita la pacchia in questi prossimi anni, ma probabilmente ragazzi sarà sempre più difficile fare holding sul mercato, perché i mercati si modificano e quindi il mercato delle criptovalute, che è un mercato giovane, tenderà a diventare un po' quello che è il mercato hold, quindi il classico, e perciò sarà sempre più difficile fare il cassettista ragazzi. Ecco, questo era quello che si diceva tanto tempo fa. Ci spostiamo sui grafici e guardiamo Bitcoin, guardiamo anche Ethereum, che ha fatto i numeri ragazzi, Ethereum, al di là di ogni mia aspettativa più rosea, è stata forse la criptovaluta che mi ha sbalordito di più nella scorsa settimana, fantastica, assolutamente fantastica. Sta ritracciando, ma benvenga ragazzi, perché c'è un livello che dobbiamo guardare su Ethereum, che è un livello chiave, ottimo anche se ritraccia fino a quel livello, e poi guardiamo Binance, come sempre. Spostiamoci sui grafici, ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale, ragazzi, se non volete perdervi nuovi video, soprattutto per la giornata di domani. Alle 18 domani facciamo la live in diretta con me e tutte le persone che vogliono partecipare, perché andremo a vedere come si deve gestire un'uscita per un holder. Qualche piccolo tips, qualche trucchettino che vi consiglierò, vi dirò, per gestire quelle che sono le fasi di uscita, quando prendere profitto, appunto, non farvi fregare dal mercato. Se siete holder e non avete magari tante esperienze nell'ambito trading, vi dovete trasformare un po' in trader, ma questo l'ho detto già la scorsa settimana, perciò domani, ragazzi, è un super video di approfondimento, adatto a tutti, per tutte le età. Vabbè, spostiamoci sui grafici. Ok, eccoci davanti Bitcoin, Bitcoin, per quanto riguarda il nostro grafico ciclico, ragazzi, la scorsa settimana vi aveva mostrato anche un grafico leggermente più breve, con una scadenza che era nella giornata di ieri. L'allarghiamo, anzi lo eliminiamo proprio, ragazzi, questo grafico, oppure lo mettiamo un po' in quello che è un po' più in là, ecco, così riusciamo a vedere i prezzi di Bitcoin, come si stanno sviluppando. Allora, prima di tutto, analisi di natura tecnica. L'analisi tecnica ci dice che il mercato ha sbattuto contro la resistenza di breve periodo, che avevo indicato a 10.500, resistenza identica al ciclo precedente, che era questo massimo del 26 ottobre, il mercato non ce l'ha fatta a superare. Questa non è una bella cosa, non mi è piaciuto molto questo, diciamo, atteggiamento di Bitcoin, pensavo che fosse possibile per il mercato spostarsi in questa fascia di prezzi e arrivare vicino agli 11.000. Lo facevo più forte, un po' come le altre coin, invece sono stati più forti. Segno anche che Bitcoin, insomma, inizia ad essere una valuta un po' più matura, uno strumento finanziario più maturo rispetto agli altri e, insomma, questa resistenza, quindi, a retto ha innescato la chiusura ciclica che ci aspettavamo. Questo ciclo che vedete sotto sono due mensili uniti, probabilmente abbiamo o un ciclo ternario o un semplice ciclo binario fatto così, vi cancello, questa era un'ipotesi che avevamo avanzato possibile la scorsa settimana. Se così fosse, guardate dove ce ne andiamo, invece, se il ciclo è binario, ce ne andiamo addirittura al 26 febbraio. Un po' la stessa identica formazione di Ethereum, lo vedremo tra poco, ragazzi. Allora, ci sono queste due view. Purtroppo non è dato sapere quale delle due sarà giusta, quindi o la view binaria oppure la ternaria. Quindi, nel caso della view binaria si può andare anche in scadenza dopo il 21, quindi tutta questa settimana dovrebbe essere una fase di rimbalzi, tra rimbalzi, chiaramente, trading range, ma comunque non tendenzialmente rialzista. Mentre poi nella prossima settimana dovremmo assistere magari ad una fase di recupero. Io, quello che penso, ragazzi, vi dico una cosa, a livello mensile c'è un recupero da fare, secondo me, anche nella close di febbraio, lo vedremo anche nei video dei primi di marzo, perché vi farò vedere anche il grafico mensile come è importante che il mercato non ritracci moltissimo. Magari si posizioni entro chiusura del mese di febbraio vicino ai 10.000 e qualcosa, insomma, vicino a questa resistenza non sarebbe male. Vedremo quello che succederà. Vi ricordo che le fasi di chiusura del mensile sono più veloci, più brevi, quindi in realtà è vero che abbiamo questa possibile, diciamo, situazione, ma io, insomma, ragazzi, la vedo un po' eccessiva, quindi io mi posizionerei, però qui, ragazzi, è un'opinione, chiaramente il mercato fa sempre quello che vuole, però mi posizionerei più intorno al 21-22 di febbraio come fase conclusiva di questa parte ribassista. Quali sono i supporti di breve? 9.500 il mercato lo sta impattando in questo momento e poi il supporto di medio periodo è quello a 9.000. Questo per quanto riguarda l'analisi tecnica, la ciclica l'abbiamo visto, ragazzi, fase di chiusura del ciclo mensile che tra l'altro è quello relativo a questo, al secondo mensile, quindi un po' più pronunciato del primo, ci sta alla perfezione. Ho un mio calcolo, di una mia analisi che sto utilizzando, ragazzi, perché abbiamo iniziato un progetto nell'Academy sul trading in opzioni perché aveva una rendita di Bitcoin, è già partito, è interessantissimo, insomma, abbiamo fatto già dei buoni numeri per chi ha Bitcoin in Hold, insomma, sono simpaticissimi questi progetti, e da uno di questi miei studi che utilizzo per fare quel tipo di trading, esce fuori che un livello di prezzo e di estensione potrebbe anche essere 9.300 dollari, quindi dove, ragazzi? In questa fascia qui, intorno a questo livello. Quindi il mercato può andare tranquillamente qui in questa zona. Diciamo che, insomma, è facilmente raggiungibile. Ecco quello che sto cercando di dire in questo momento. Se si blocca prima, bene così, ragazzi, e ben venga. Vi farò anche un breve aggiornamento in settimana, un recap del progetto della Dollar Cost Average per farvi vedere alcune cose che sono cambiate e lo pubblicherò, penso, o sul canale YouTube o sul canale Telegram. Il mio canale Telegram in descrizione è gratuito, ragazzi. Quindi per quanto riguarda Bitcoin abbiamo in sostanza detto tutto, ragazzi. Fase di bassista quando finirà? Probabilmente entro breve, tra pochi giorni. Vedremo chiaramente questa cosa, se come e dove andrà. Da un punto di vista di sottocicli, in questo momento sta chiudendo, per esempio, un ciclo piccolino, quindi dovrebbe provare a rimbalzare, quindi io non vedo una caduta libera, ragazzi, del mercato, bensì una fase di respiro del mercato. Ve l'ho detto, questa non è un'inversione di trend, è una chiusura ciclica, in questo momento c'è poco da disperarsi, quindi la vedo così. C'è anche un Golden Cross che sta per avvenire, ma non è in... non impatta molto il mercato in questo momento perché? Perché semplicemente il mercato è in una barra di congestione, vedete, grandissima però, è così, quindi il Golden Cross semplicemente indica lateralità in questo momento. Però, perché no, ragazzi, al di sopra di questo livello, quindi al di sopra, cambia e diventa trend rialzista di medio periodo per il mercato delle criptovalute, per il re delle criptovalute. Andiamo invece a vedere Ethereum che è fantastica, ragazzi, guardate che numeri Ethereum, ragazzi. Intanto ha mandato l'RSI così tanto in ipercomprato che ha indicato una forza di trend sbalorditiva. Bellissimo, ragazzi, vedere queste cose. Quando si dà una criptovaluta per morta che Ethereum la danno per disperata, diciamo, no, non resisterà a Bitcoin e poi fa numeri di questo tipo, ragazzi. Quasi, diciamo, ritornato ai massimi addirittura dello scorso anno in meno di una settimana. Incredibile, incredibile. Allora, la resistenza di breve che vi avevo indicato a 225 dollari ha trattenuto i prezzi ma per 2-3 giorni, quindi veramente 1-2-3-4 giorni sotto, ragazzi. 4 giorni di resistenza, veramente pensavo di più anche io stesso, invece il mercato l'ha distrutta, ovviamente, schizzato sul livello successivo di resistenza che erano i 280. Adesso sta facendo un pullback, ragazzi. Chi di voi ha risposto in questo momento, chi ha fatto i miei corsi informazioni sa queste cose, sta facendo pullback, ragazzi, vedete? Semplicemente così. L'ha finito, può essere. Ragazzi, qui abbiamo la versione ciclica di Ethereum a scadenza lunga, quindi insomma così. Anche qui ragazzi, io direi che il 21 resta, secondo me, una delle giornate più appetibili per una scadenza ciclica, anche su Ethereum vedremo se finirà. Insomma, questo minimo che ha fatto è bello profondo, potrebbe semplicemente perdere tempo qualche altro giorno in questa fase di congestione e poi magari ricaricare le batterie per un nuovo trend. Ovviamente la resistenza da battere su Ethereum diventa questa qui, che a questo punto tutto cambia perché questo diventa un supporto di breve periodo mentre quella che abbiamo qui la 285 diventa la resistenza di medio periodo. Ok, ragazzi, tutto via a configurarsi in questo modo. Bella Ethereum, ragazzi, una delle criptovalute secondo me migliori tra le altcoin in questo momento. guardate che parabola che rialzo che ha fatto anche che pulizia del rialzo Golden Cross che in questo caso non indica trading range ma indica trend invertito perché il mercato è salito al di sopra della vecchia resistenza 225 indicando trend rialzista su Ethereum di medio periodo. Ragazzi, poi cosa farà se farà questo? Non lo sappiamo ma sappiamo che in questo momento il trend di medio periodo rialzista. La configurazione a doppio massimo discendente tra i due massimi insomma in questione c'è ma lo andremo a vedere se solo se nelle prossime settimane il mercato perderà estremamente forza e non riuscirà a salire al di sopra di questi livelli. Quindi al momento prematuro parlare di questa cosa. Per quanto riguarda Binance bellissimo anche Binance innegabile anche questa fantastica conformazione della mia criptovaluta preferita quella degli exchange token quindi exchange coin in questo caso il RSI si riporta in zona neutrale ottimo perché si scarica in questo momento ha indicato anche nelle precedenti movimenti grande forza ancora una volta qui abbiamo un'indicazione ciclica che porta la scadenza intorno a fine settimana questa fine settimana può essere che il mercato tenterà domani e dopodomani vi ricordo che domani e dopodomani ragazzi ci sono delle giornate molto veloci molto forti perché come sapete martedì e mercoledì sono giornate di buona volatilità sul mercato cripto vi ho pubblicato il video relativamente a questo studio andatevelo a vedere anzi se riesco ve lo metto sulla testa se me lo ricordo ragazzi ogni volta avendo molto il video mi scordo queste cose e cosa sta facendo ancora una volta Binance sta facendo un pullback ragazzi un pullback dove? sul supporto a 22 è un supporto di acquisto? si è un supporto di acquisto se il mercato inverte il trend dico sempre non sono consigli finanziari intanto lo sapete però magari comprare proprio mentre va giù il mercato perché no si potrebbe fare in questo caso ha avuto un trend rialzista in questo caso l'acquisto mentre il mercato scende è possibile sui livelli di supporto come questo ricordatevi sempre però ragazzi che se compriamo qualcosa che cade rischiamo un po' di più però abbiamo anche la possibilità di prendere un famoso minimo di comprare sul minimo in questo caso non è una cosa sbagliata perché il mercato è in trend rialzista di breve quindi non stiamo comprando un mercato in trend rialzista stiamo comprando un mercato che sta facendo uno storno di un trend rialzista quindi è giusta in questo caso ragazzi anche l'ingresso io poi che sono prudenziale aspetto sempre un'inversione di trend nel breve periodo ragazzi però quello è tiratura soggettiva quindi non è un errore fare questa cosa poi ovviamente dovete saperla gestire quando fate queste operazioni ricordatevi che il trading è estremamente rischioso dovete avere formazione sempre nel trading quali sono i livelli da battere per Binance 28 dollari 27-28 dollari in quest'area qui che abbiamo visto come precedente massimo è tutto correlato ragazzi è tutto molto correlato alla fine di questo mese di febbraio avremo le risposte nella prossima settimana e anche in questa di che pasta è fatto questo rialzo che poi è quello che ci interessa per capire se questo mercato in quest'anno 2020 ci darà grandi soddisfazioni io quello che penso e lo sapete bene sono molto ottimista da un po' di mesi spero ovviamente di aver ragione devo essere sincero ragazzi tutti i miei sistemi di trading sono usciti la scorsa settimana intorno ai 10.250 di bitcoin sono sistemi però di trading di breve ragazzi quelli che usiamo nella trading on academy ragazzi come sempre il link lo trovate in descrizione se volete informazioni e quindi potrebbero rientrare a momenti ecco questo è quello che dico le posizioni in hold le mie personali le ho lasciate hold sul mercato non sono voluto uscire perché non ho segnali in questo momento che per l'hold di lungo periodo possa essere rischiosa questa fase di bassista la ritengo in questo momento una ritracciamento corretto ciclicamente atteso quindi nulla di anomalo per quanto mi riguarda bene per oggi è tutto ragazzi ci vediamo domani ve lo ricordo live 18 febbraio alle ore 18 di trading on andremo a guardare quali sono i tips i trucchetti per uscire per chi è hold dal mercato per capire se conviene o meno uscire in un determinato momento e qual è il trade off appunto la coperta corta ve la ricordate ragazzi quella che vi ho fatto come esempio quando dovete uscire da un investimento è perché ci sono diversi modi ragazzi e vi dico già da oggi uno spoilerone saranno delle cose estremamente interessanti perché prenderò un pezzettino di un concetto che spiego nel mio corso di formazione e quindi non mancate alla giornata di domani noi ci rivediamo in settimana col prossimo video vi ringrazio come sempre Mauro Caimi ciao a tutti ciao a tutti